Prima di guardare il video, ti invitiamo a cliccare sul pulsante iscriviti e a lasciare un mi piace. Il tuo supporto è importante per noi. Sorpresa! Michele Santoro ha firmato con Mediaset. Michele Santoro sarà un ospite fisso nel nuovo programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. Questo segna il ritorno del giornalista sul piccolo schermo a 27 anni dalla sua conduzione di Moby Dick. La notizia del suo ingresso in Mediaset è stata svelata dal quotidiano Il Foglio, che ha annunciato la sua partecipazione alla trasmissione di Bianca Berlinguer dopo le dimissioni dalla Rai. Recentemente, Michele Santoro è apparso in televisione come ospite sulla 7, ma ora avrà una presenza stabile su Rete4. Da tempo il giornalista desiderava avere un programma tutto suo o comunque rimanere in modo continuativo in TV. Dalle indiscrezioni emerge che prima della morte di Silvio Berlusconi, ci sarebbero state alcune telefonate tra Santoro e Il Cavaliere, durante le quali hanno discusso degli eventi in Ucraina e del conflitto in corso. Oggi sembra chiaro che il giornalista diventerà l'ospite fisso nel nuovo programma di Bianca Berlinguer su Rete4. Il rapporto tra Santoro e Berlinguer è antico, nonostante i due abbiano avuto una brutta lite nel 2016 quando, come oggi, furono chiamati a collaborare dalla Rai per una striscia quotidiana di approfondimento su Rai2, si legge su Il Foglio. Inoltre, circolano voci riguardo alla possibilità di vedere Michele Santoro con un suo programma su Italia 1, a 27 anni dalla conduzione di Moby Dick. Il programma andò in onda dal 1996 al 1999 con due appuntamenti settimanali. Nacque dopo una polemica politica tra Santoro e il direttore del servizio pubblico Enzo Siciliano. Il programma trattava temi di carattere sociale e politico, ma dopo questi tre anni, il giornalista tornò alla Rai. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like o un commento e condividere con i vostri amici. Ci vediamo alla prossima. Ciao!